Edo, ma quanto sei bello! Edo, tu sei bello! Sei bello! Sei bello! È una parete di sangue importante, per cui sarà molto difficile che venga dimesso dall'ospedale di Milano. Questo era il messaggio che aveva lasciato ai suoi followers quando è stato ricoverato. Ovviamente, come sempre, non sono mancati gli stronzi enormi che ci hanno tenuto a fare commenti brutti sotto i suoi post, come in ogni occasione delicata dei Ferragniz. È intervenuta perfino l'influencer Giulia Salemi, mettendo fine a questi commenti cattivi, dicendo che pur sempre è un papà di famiglia. Questo è Pablo e questa è Valentina Ferrani, come sempre.